ben ragazzi con il grado 0.16 che parli parla oggi voglio far vedere il mio spinner questi ormai sono diventati una droga la droga è il momento tutti quanti ce l'hanno infatti io farò altri video infatti io li sto ordinando su amazon diversi spero che vi piacciono poi questi qua anche saltando ho detto adesso qui ci si tratta i minuti che girano tipo ieri ho fatto la gara con un bianco e in pratica ha iniziato a girare per un tempo gigante un minuto e otto secondi un minuto e otto secondi e vorrei non mi riesco a spiegare come ho fatto praticamente ho fatto un appoggio così adesso ho messo il timer un minuto e otto vabbè 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 poi togliendo questo qua di mezzo vabbè rimaniamo un po così questo qua che cia in un po quanto riesco a far girare quel rumore che fa non so se si sente ma vabbè l'ho fatto piano se ti vuoi facci tipo già così è una cosa che mi voglio fare è un trick che mi sono imparato in pratica se ce la faccio io ce l'ho fatta oh no non lo so oggi no se non stare il spinner che è andato sotto il letto vabbè io ogni mio spinner chiudo il video e se il video è difficile mettete un like e iscrivetevi ciao perché non si chiude con mia mano ok Grazie.